Non esiste un solo tipo di impresa, non esiste un solo settore, ma c'è una forte divaricazione tra i comportamenti delle imprese che avendo investito, aumentato la produttività, la redditività, anche l'occupazione riescono a competere sui mercati sia interni che internazionali e invece le imprese che sono in ritardo perché hanno investito poco, perché hanno investito anche un po' vecchia, basata su schemi antichi. Questo censimento ci aiuta a capire quali sono i punti di forza, quali punti di debolezza nel nostro paese e quindi a disegnare meglio le politiche. Chiedendo alle imprese, come ha fatto l'Istat, quali sono i fattori di ostacolo principali, il primo riguarda il credito, la disponibilità di credito, per questo il governo ha potenziato il fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anzi con il disegno di legge di stabilità viene ulteriormente potenziato questo strumento. Altro problema che le imprese segnalano è la scarsità della domanda e quindi la fase congiunturale, per questo di nuovo in legge di stabilità abbiamo inserito fondi per il rilancio degli investimenti pubblici, per l'abbattimento del costo del lavoro delle imprese e per dare ai lavoratori più reddito. Infine il tema degli oneri burocratici, un tema non nuovo su cui evidentemente bisogna fare molto di più e in questo senso speriamo che la spending review ci aiuti a diventare più efficienti.